Grazie alla seconda giornata del Flashmob organizzata da UISP. Noi siamo il gruppo sportivo di Zumba Girls in questo momento. Facciamo Zumba Fitness e da fino a ottobre siamo ferme, purtroppo, dopo poche settimane di attività. Nonostante abbiamo adottato tutte le norme di sicurezza in palestra e in sala per ballare. Comunque questa è la nostra protesta danzante e anche il nostro grido per l'ingiustizia della nostra verità ferma da troppo tempo. Speriamo di dare un messaggio per cercare di ricominciare più presto.